Ciao, sono Charlie Fantechi e intanto vorrei ringraziarti di aver fatto una scelta, una scelta che ti porterà ad apprendere quelli che sono i segreti della comunicazione e in particolare quelli che sono i segreti della comunicazione ipnotica applicata ad un campo molto interessante che è quello della vendita, come riuscire a persuadere i tuoi clienti, come riuscire ad impattare e a influenzare le loro menti in modo che facciano delle scelte che sono quelle che tu hai in mente. Quindi quello che faremo è analizzare quali sono i processi comunicativi che ti portano ad avere influenza e successo nella tua comunicazione, nella tua comunicazione persuasiva, ad essere ipnotico in quello che fai e in quello che dici e vedrai che quello che ti fornirò è una mappa molto precisa di quelle che sono le mosse, le tattiche e le strategie di ipnosi per vendere. Quindi come partire dal piccolo pezzettino della comunicazione per arrivare poi alla tattica, capire come inserire la mossa all'interno della tattica e poi applicare tutto questo all'interno di una strategia che ha delle fasi precise e che ti permette di essere molto efficace, molto veloce nel processo di vendita, di essere estremamente efficace nel processo di persuasione. E quando parlo di vendita parlo di riuscire a proporre se stessi in un modo efficace, riuscire a portare le persone a fare delle azioni che sono le azioni che hai in mente. Quindi mettiti comodo e buon viaggio!